Ciao da Afsim, siamo nei quarti di finale di Coppa Italia e stasera ce li giochiamo, ci giochiamo l'accesso alla semifinale di questa Coppa Italia 2019-2020 all'Allianz Stadium alle 20.45 c'è Juventus-Roma, una partita che negli ultimi quattro appuntamenti all'Allianz Stadium ha visto la Juventus uscire vittoriosa sempre per 1-0 piccola curiosità, ma soprattutto all'Allianz Stadium la Roma ha sempre perso, non è che non ha mai vinto, ha sempre perso Paolo Fonseca ha parlato anche di questo in conferenza stampa e naturalmente cosa mai poteva dire, speriamo di interrompere questa tendenza, di invertire questa tendenza e di sfatare il tabù naturalmente vincendo perché poi se nei 90 minuti esce fuori un pareggio comunque una delle due squadre deve vincere alla fine della partita perché è turno all'eliminazione diretta come ben sapete non c'è appello, non c'è ritorno e allora è veramente una partita molto molto importante, molto molto delicata perché la Juventus ha già perso un trofeo quest'anno che è la Supercoppa Italiana e adesso punta a poter vincere almeno la Coppa Italia per farlo bisogna quantomeno arrivare in semifinale e poi in finale oltre naturalmente alla Corsa Scudetto che deve dire ancora tanto. La Juventus che affronta questa Roma sapendo già quali sono i pregi ma anche i difetti volendo di questa Roma essendo stata affrontata, avendola affrontata circa dieci giorni fa in campionato all'Olimpico abbiamo vinto 2 a 1 e Sarri ha parlato di quelle difficoltà e ha detto se pensiamo di poter affrontare la Roma senza soffrire siamo fuori dalla realtà perché la Roma è una squadra forte che può mettere in sofferenza e in difficoltà chiunque. Dall'altra parte Paolo Fonseca ha detto abbiamo guardato quali sono stati i nostri errori, forse Paolo Fonseca può guardare più al bicchiere mezzo pieno rispetto a Sarri perché sì Sarri ha portato via tre punti, la Juve ha vinto però ci sono stati quei 15 minuti iniziali quasi scoppiettanti ma poi la Juventus è veramente quasi uscita dal campo per tutto il resto della partita. Roma che invece in campo per il resto della partita c'è stata e allora Paolo Fonseca ha parlato dei difetti, dei problemi, delle disattenzioni, delle problematiche che si sono evidenziate in quei 10-15 minuti iniziali e ha detto non dobbiamo mai ripetere quello che abbiamo fatto in quell'inizio di partita ma anzi dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto nel proseguo. Quindi una Roma che se vogliamo ha già un punto d'appoggio per fare una buona prestazione e per riuscire a vincere, cioè deve guardarsi allo specchio e trovare appunto i propri difetti cosa che a quanto dice l'allenatore sta facendo, ha fatto e farà. Stessa cosa per quanto riguarda la Juventus che però forse ha una maggiore difficoltà a fare una partita preponderante perché l'abbiamo fatto col Cagliari l'abbiamo fatto in parte col Parma, l'abbiamo fatto sicuramente con l'Udinese ma contro questa Roma ci è risultato veramente difficile venire fuori con la nostra personalità, con il nostro impatto sulla partita a parte dicevo i minuti iniziali. Una Roma che comunque non avrà tutti i giocatori a disposizione fuori Dzeko per squalifica ed è una notizia importante perché Dzeko è sicuramente uno dei giocatori più importanti della Roma ma senza dubbio giocherà Kalinic. Kalinic che è stato sponsorizzato ieri in conferenza stampa da Paolo Fonseca, in realtà anche da Sarri, anche Sarri ha sottolineato i pregi di Kalinic ha detto è un attaccante molto importante che sa giocare molto bene a livello tecnico, a livello acrobatico a livello fisico e Paolo Fonseca ha detto ha fatto molto bene contro il Parma proprio negli ottavi di finale di questa Coppa Italia la scorsa settimana, Parma-Roma 0-2 doppietta di Lorenzo Pellegrini e quindi ci si affida appunto per quanto riguarda l'attacco a Nicola Kalinic ma mancheranno oltre a Dzeko anche Perotti, Mkhitaryan e Pastore che sono fuori per infortunio, comunque non sono in perfette condizioni fisiche, addirittura Fonseca ha parlato di recuperare solo Perotti per il campionato quindi per quanto riguarda Pastore Mkhitaryan i tempi sono più lunghi mentre recupera Fazio Fazio è l'unico praticamente che dovrebbe avercela fatta dopo il Genoa ed è anche una questione di condizione fisica perché tante partite ravvicinate, turnover ma questo è un discorso che riguarda anche Sarri come vi ho detto nel mio video a caldo post conferenza stampa ieri sera pre-Juventus-Roma. E allora quale potrebbe essere la formazione della Roma? in realtà non ci sono molte opzioni, molte alternative, insomma Paolo Fonseca sembra essere incanalato, indirizzato quasi inevitabilmente, inesorabilmente verso questo 11 iniziale naturalmente 4-2-3-1, cioè Paolo Lopez in porta, non ci dovrebbe essere turnover per quanto riguarda il portiere Florenzi a destra, Mancini-Smalling la coppia centrale e Kolarov a sinistra, insomma la difesa titolare Diavara e Cristante dovrebbero essere in vantaggio su Veretout, Veretout che tra l'altro è stato ammonito contro il Genoa, non avrebbe neanche dovuto giocare perché avrebbe dovuto essere espulso, o meglio no perché c'è stata forse qualche partita di mezzo, comunque avrebbe dovuto essere espulso sicuramente contro la Juventus e questo lo sappiamo, quindi se diciamo Veretout contro la Juve ci viene in mente quel fallo da rigore clamoroso e poi in attacco Under, Pellegrini e Klaivert in appoggio appunto a Kalinic. Questa dovrebbe essere la formazione della Roma, una Roma che come sappiamo è molto brava sui calci piazzati, una Roma che è molto brava ad aggredire gli spazi in verticale, molto brava nelle verticalizzazioni, quindi sarà importante per la Juventus stare corta, compatta, non lasciare spazio tra i reparti ma soprattutto essere brava ad aggredire subito la palla persa, a sostenere la difesa con il centrocampo, con la difesa per quanto riguarda il recupero palla, ma a sostenere anche la difesa con il centrocampo quando si tratta di dover indietreggiare e contenere gli attacchi della Roma. Venendo alla Juventus vi ho già detto, discorso turnover, in realtà non sarà un turnover spinto, ci sarà soltanto da valutare le condizioni di alcuni giocatori, sembra quasi che siamo in emergenza terzini per la seconda volta quest'anno, tra l'altro perché De Sciglia non si sa più che fine abbia fatto ma ogni volta che si infortuna è sempre così. Alessandro dovrebbe saltare questa partita e io vi dico, spero che la salti perché se non sta benissimo meglio che colga quest'occasione per riposarsi perché avrà da giocare ancora tanto, tanto, tanto perché non abbiamo un terzino sinistro di riserva e qui viene il problema, mentre Quadrato, reduce soltanto da un attacco influenzale lunedì, dovrebbe essere recuperabile, ha detto Sarri, se anche oggi è sfebrato. Insomma Quadrato dovrebbe giocare e quindi c'è Danilo a fare da vice, Alexandro a questo punto ma quantomeno è un terzino per terzino che poi sia adattato per quanto riguarda la fascia non conta tantissimo perché come ha detto Sarri proprio ieri in conferenza stampa facendo un grande endorsement in confronti di Danilo è un giocatore che non sbaglia mai la partita e che per quanto riguarda la contribuzione difensiva tale è a destra qual è a sinistra e viceversa pur essendo a piede diciamo sfavorevole mentre l'alternativa sarebbe stata Matuidi terzino sinistro e chiaramente lì vai a soffrire perché è un giocatore che può fare il terzino sinistro, l'ha già fatto in una partita quest'anno ma non ne parliamo certamente di un giocatore di ruolo e contro una squadra come la Roma in una partita che potrebbe anche andare oltre i 90 minuti è meglio non rischiare è meglio avere i giocatori nei propri specifici ruoli e reparti. Per quanto riguarda altri giocatori c'è da valutare in realtà anche Ronaldo, c'è da valutare anche il Tridente ma qui veniamo fondamentalmente per chiudere alla formazione che secondo me sarà schierata da Sarri stasera e ve la mostro anche, credo che il Tridente ci sarà e quindi in Porta Buffon e non c'è dubbio Quadrado perché dovrebbe essere recuperato a destra, Delict Bonucci perché Sarri ha detto in conferenza stampa Delict adesso gioca a destra perché con Demiral a destra abbiamo sperimentato Bonucci a sinistra e si è trovato bene, a sinistra terzino appunto Danilo a centrocampo, torna finalmente definitivamente Bentancur, Pjanic credo che sarà titolare e io a questo punto vedo Rabiot a sinistra perché per dargli continuità visto che sta crescendo tanto e Sarri ne parla spesso bene in conferenza stampa credo che sia il caso di metterlo in campo e poi appunto in attacco di Balegue in Ronaldo Le alternative in realtà sono più che altro Matuidi e Bernardeschi a centrocampo con Emre Canneri legato ancora una volta a non giocare mentre non vedo tanto possibile Ramsey trequartista e eventualmente potrebbe partire titolare Douglas Costa Cosa ne pensate? Qual è il vostro pronostico di formazione? Qual è il vostro pronostico per questa partita? Ditemelo nei commenti e vi ringrazio per l'attenzione Like al video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!